San Giuseppe è un uomo capace di sognare, un uomo obbediente, silenzioso, che abbraccia con fiducia le promesse di discendenza, di eredità, di paternità, di filiazione, di stabilità. Nell'omelia della Messa a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato sulla figura del padre putativo di Gesù, un semplice falegname, un uomo che non parla ma obbedisce, custode delle debolezze che porta avanti con tenerezza. Io oggi vorrei chiedere, ci dia a tutti noi, la capacità di sognare, perché quando sogniamo le cose grandi, le cose belle, ci avviciniamo al sogno di Dio, le cose che Dio sogna su di noi. Che ai giovani dia, perché lui era giovane, dia la capacità di sognare, di rischiare e prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni. E ci dia a tutti noi la fedeltà, che generalmente cresce in un atteggiamento giusto, lui era giusto, cresce nel silenzio, poche parole. E cresce nella tenerezza che è capace di custodire le nostre, le proprie debolezze e quelle degli altri.